Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 19 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo sagittario. Sopra le righe con un sorriso scansonato. Giornata divisa in due e lamela in questione tagliata a metà da una lama invisibile non è quella di biancaneve ma il pomo rotondo della luna piena, umorale immattinata, resa dispersiva e malinconica dai fumi di Nettuno, coraggiosa ma esagitata nel pomeriggio, quando raggiunge l'ariete, segno focoso e idealista quanto il vostro. Ecco perché nonostante tutto vi permettete di andare oltre le righe con un sorriso sfacciato da viveur. Spese consistenti per chi se le può permettere ma anche per chi è finito in rosso, il denar non è mai un problema per voi, quando c'è lo fate circolare, quando non c'è, traghettato dal ricco Plutone, miracolosamente arriva. Così così solo il gioco, perdete la prima mano, vincete la seconda, ma sulla terza pesa l'incertezza. Meditate sulle parole di Churchill punta più di quanto tu possa permetterti di perdere e imparerai il gioco. Per il passato, una separazione molto dolorosa che ha lasciato il segno e ha determinato una sofferenza importante. Per il futuro, potrebbe esserci una separazione dolorosa e di cui non ne avete tutte le responsabilità. Si agita lo spettro di uso di magia per separare una coppia. Separazione, divorzio, crisi con rottura di coppie. I single avranno un periodo di incomprensioni e difficoltà nell'approcciare alle persone verso cui hanno un interesse e trascorreranno momenti di solitudine. Se la vostra generosità non è apprezzata non datevi pensiero, proseguite per la vostra strada e non aspettatevi molta riconoscenza. Ricordate che chi fa bene riceve, prima o poi, del bene. Oggi potreste accorgervi che una vostra relazione extra è definitivamente finita e a dover trovare il coraggio per troncarla. Oggi non abbiate timore di osare in amore, ricordate che chi batte in ritirata è quasi sempre perdente, mentre chi per primo attacca ha buone probabilità di vincere. Oggi vi sentirete particolarmente romantiche. Fate le scelte giuste e non lasciatevi guidare dall'opportunismo, in certe occasioni potrebbe essere necessario tutto il vostro coraggio e questo, da qualche parte, c'è pure. Oggi nella vostra chat preferita potreste divertirvi di gusto, ma fate attenzione alle persone interessate che sperano solo quello. Sole, luna e venere in buon aspetto, potrebbero materializzarsi ritorni d'amore anche insperati. Senza buone ragioni non potete scagliarvi contro una persona che ha sempre avuto molta pazienza con voi. Siate più comprensivi. Mettere mano al portafogli non è il vostro forte, purtroppo oggi i nati di martedì e venerdì dovranno farlo. Siate più selettive. Alcuna amicizia invece di giovarvi vi rendono solo di malumore. Continua anche oggi ad essere una bella giornata di metà settembre con una stupenda luna in felicissimo aspetto dal segno di fuoco dell'ariete, benefico per il sagittario. Un tono vitale eccellente vi accompagna, permettendovi di fronteggiare alcune contrarietà piccole e grandi che potete incontrare nello scorrere del quotidiano. Una buona posizione celeste di venere, nel segno della bilancia, vi rende splendenti di salute e bellezza. Chi di voi pratica lo sport ottiene ottimi risultati. Giornata a due marce, giù la mattinata sotto il tiro incrociato del sole in vergine, pronto a ricordarvi tutti i doveri e la luna piena in pesci resa ancora più fantasiosa e sognatrice dall'alone di Nettuno che l'accompagna. A riportarvi coi piedi per terra Orano e Plutone, concreti e pragmatici, il primo vi parla di lavoro, il secondo di guadagno. Dunque bando alle romanticherie, basta coccole tra le braccia del partner, è ora di alzarsi, farsi un caffè e correre al lavoro e darsi da fare, replay in serata, tutta per il cuore, ora che a dominare la scena è la luna focosa in ariete, esuberante, appassionata, vogliosa. Energia, vitalità vi accompagnano fino a tarda notte, prima in palestra, poi a uno spettacolo, infine tra le braccia del partner, in sottofondo bolero di Ravel. Amore ed Eros. Da una chiacchierata al telefono a un invito a un drink, poi una cena e il dopo cena, il gioco erotico comincia così, con flerte e malizia. Coi figli gestite un rapporto disinvolto, giocando a fare la lotta sul tappeto senza preoccuparvi troppo che si facciano male, dopo tutto un graffio o un livido non sono la fine del mondo, lasciateli divertire. A sponsorizzarvi alla grande c'è un fenomenale duo Plutone, Venere. Se siete una coppia di lungo corso potrete godere degli effetti positivi di maturità e saldezza dei sentimenti che solo un'intesa consolidata sa offrire. La stabilità affettiva è assicurata per voi dalla luna, oggi in ariete, specie se appartenete alla prima e seconda decade. Illuminare dell'altruismo e della capacità di governare le emozioni, vi sorreggerà potentemente. Senza tuttavia farvi mancare la capacità di assaporarle tutte, fino in fondo quelle emozioni. Lavoro e denaro. Finanze al sicuro. Con gli investimenti a breve termine vi garantite piccoli guadagni. Progetto di lavoro o esame brillante, di giorno sgobbate, la notte vi date a dolci follie. Venere, nel segno amico della bilancia, vi aiuta ad essere seri e concentrati e a proiettarvi, con pazienza, verso mete ambiziose, specie se festeggiate il vostro compleanno nel mese di dicembre. Capite che è solo una questione di tempo per voi conquistarvi una posizione di alto livello nel lavoro. Benessere. A passo lento fino a mezzogiorno, poi dopo pranzo un'improvvisa sensazione di benessere e piena vitalità, praticamente iniziate all'alba e andate avanti fino alle ore piccole. Per mantenervi in piena forma, cibo e sesso devono restare in equilibrio, se prevarica il primo vi abbioccate, se il secondo vi spompate. Denaro. Potete attivarvi a provare la fortuna nel gioco oggi. I pianeti sono ben disposti per voi. In particolare luna e i venere, da ariete e bilancia. E per la prima e seconda decade in particolare. Favorito sarà puntare al gioco dell'otto. Per lei, qualunque sia la vostra attività, oggi guadagnate benone anche senza sudare, in campo finanziario molto fa l'abilità, qualcosa anche il fascino e la fortuna. Per lui, attratti dalla trasmutazione alchemica ma con una solo difetto, non sapete trarre l'oro dal piombo e nemmeno idee fruttuose dal cappello a cilindro. Colore delle emozioni, giallo oro. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 5, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.